Ciao ragazzi, benvenuti ad Unplugged Gitarre News. Il 5 maggio si è svolto nella saletta di Unplugged dello Showcase di Pete Huffinger. Pete ha presentato alcuni brani del suo nuovo CD, Fingerpicking Wonder, tutto dedicato al grande Stevie Wonder, più altri brani del suo repertorio. È stato un bellissimo concerto in cui Pete ha messo in evidenza la sua straordinaria tecnica, condita con una simpatia davvero fuori del comune. Vediamo ora un breve strato della performance, ricordando che a breve sul nostro sito amplagechitarre.it saranno disponibili i video integrali dell'evento. Unplugged Gitarre News Grazie a tutti. Bravo, vero? Se sei interessato sul nostro shop puoi acquistare i CD ed alcuni tabs di Pete. Passiamo ora alle notizie sulle attività del nostro punto vendita. È in corso la promozione di primavera. Molti prodotti a prezzi imbattibili, come ad esempio questa stupenda Martin D28 Marchese a 3.219 euro. Ho questa Gibson Lesport Standard a 1.615 euro. Per i dettagli sulle offerte consultate il nostro blog, ma affrettatevi perché la promozione finisce il 31 maggio. Ora una notizia sicuramente gradita a molti nostri amici. Unplugged Gitarre ha concluso un accordo con Backline, azienda che distribuisce in Italia importanti marchi, tra i quali le chitarre di pop Taylor e il marchio coreano Cort. Da oggi Taylor e Cort si aggiungono alla gamma dei marchi che potete trovare da un plugget quale Morris, McIlroy, Martin, Larive, Takamine, Fender e altri ancora. Si svolge in questi giorni, fino a domenica 24, la dodicesima edizione di Acoustic Guitar International Meeting di Sarzana, uno dei prestigiosi festival della chitarra acustica d'Europa. Stasera si esibiranno tra gli altri Bob Brosman e David Bromber. La serata di domani, sabato 23, sarà tutta dedicata a Woody Guthrie, con ospiti prestigiosi come il Beppe Grambetta e la presenza di un ospite speciale. La figlia di Woody Guthrie, Nora. Potete trovare il programma completo sul sito amarilloclub.org. Dal 12 al 14 giugno 2009 si terrà a Tivoli la prima edizione della manifestazione Guiterville, una full immersion di chitarra acustica organizzata dall'Associazione Accordature Aperte in collaborazione con il padrocinio dell'Assessorato al Turismo del Comune di Tivoli e dell'Assessorato alla Cultura della Provincia di Roma. Tre giorni di seminari e concerti di chitarra acustica tenuti da importanti chitarristi come John Gon, Pietro Nobile, Pino Forastiere e Sergio Altamura. Il programma completo è disponibile sul sito guitarville.org. È disponibile in negozio il nuovo CD di Dario Fornara intitolato Amore e Psiche. L'album contiene arrangiamenti di brani famosi come Imaging di John Lennon e Almeno tu nell'universo di Mia Martini, oltre a composizioni originali di Dario come il brano che dà il titolo all'album. Per ascoltare un sample visitate la sezione CD del nostro shop. Vi anticipiamo comunque che nei prossimi mesi Dario Fornara sarà ospite della nostra saletta per la presentazione milanese del CD. Per concludere, veniamo al consiglio del liutaio. Le corde rivestite vi sfuggono dalle dita? Provate le nuove corde ClearTone, una valida alternativa che, grazie ad uno speciale trattamento, garantiscono lunga durata e brillantezza mantenendo un film della corda tradizionale. Per questa edizione è tutto e ci vediamo a Sarzana. Ciao! Grazie!